Marten si va a gara 5, dopo una partita forse la più brutta della serie, con tanti errori, avete faticato in attacco, adesso non ricordo esattamente alla fine, oltre 20 muri subiti credo, insomma è tornato quel problema lì, il problema dell'attacco. Questo magari lo sai meglio tu, io giocando la partita magari non ce ne accorgiamo, poi dopo è chiaro che secondo e terzo set abbiamo avuto un calo importante, sono i play-off, sono due squadre che possono fare in qualsiasi fondamentale differenza, attacco, muro, difesa, battuta, e quindi non si vedono sempre set come gli ultimi dove è tiratissimo, o il quarto set a Perugia, sicuramente è una cosa da dover riguardare, questi due set che comunque siamo calati, però alla fine giochiamo in quinto set, abbiamo l'opportunità e tutte le palle in mano diciamo di chiuderla anche, quindi alla fine anche giocando male le chance le abbiamo avute. Nel quinto set un'invasione, una rigiocata tirata fuori, un errore in battuta e poi entra in scena Leon. Sì, dove siamo stati più bravi noi a Perugia nel quinto set, questa volta l'hanno fatto meglio loro. Noi abbiamo provato di spingere dai 9 metri, abbiamo sbagliato un po' troppo, le due occasioni che abbiamo sono purtroppo due errori non stupidi, comunque l'attacco di Mir esce di pochissimo, l'invasione è un peccato e Leon li ha quando conta, quindi loro bravi oggi, insomma testa alta e si va a giocare una bellissima terza gara, quante gara scusa. Grazie. Grazie.